Quest'anno si è partito col voto perché appunto il tempo rispetto all'anno scorso è più... magari per qualcuno dà fastidio perché è un po' più freddo e più brutto, però per noi che siamo addetti ai lavori e per i miei animali penso che sia un tempo favoloso. Non è caldissimo, non fa freddo, con la giusta coetina, un'erba che è fantastica a dirvi più, dunque si presume solo che con un'erba del genere possa uscire un prodotto che sia favoloso e come ormai si è fatto da diversi anni e ha avuto un bellissimo successo. Anche quest'anno il Consorzio organizza di nuovo Malghi Aperte, luglio-agosto, dunque siete tutti benvenuti nelle varie atteggi a vedere come la gestione dell'animale, la mungitura, la produzione del formaggio. Un'altra iniziativa bella è sempre quella con i rifugi, nei rifugi ad assaggiare i prodotti, il siltra abbinato al vino della Valle Camonica, dunque penso che si vada avanti la grande ancora. Ora, io parlo a mio nome come azienda agricola Bezzi, se il buongiorno si vede al mattino sta iniziando tutto benissimo alla grande. Io sono molto ottimista, penso che sia un'estate bellissima.